Alle porte dell'Eden sbocciarono due rose, ma la rosa è simbolo di passione e la passione è una creatura terrestre. Una rosa così teneramente mostra il suo colore come una gentile fanciulla confusa. L'altra porpurea diventa viola, bruciata dal fuoco della passione. Ed entrambe sono alle soglie della conoscenza, davvero davanti al sommo giudice e ai segreti della passione accesa, avvezzo ai misteri del cielo.